www.marizopoli.it, ennesima truffa in ambito finanziario, oltre 50 mila persone coinvolte in questa truffa, UEFA Football Fund Ltd, promettevano un 2,5% garantito sul capitale investito giornaliero, e qui doveva suonare il campanello allarme, garantito giornaliero vuol dire un 900% anno, non esiste, non esiste in natura, un'attività che può generare un tasso di interesse simile, quindi chi può essere di risolvere tutto con un piccolo clic non funziona così, e ricordiamoci che le truffe, il gatto e la volpe, se è troppo bello, non può essere vero, ci deve essere qualcosa sotto, quindi ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani, come diciamo noi, affidatevi ai consulenti finanziari certificati che possono accompagnarvi nella scelta di investimento e di programmazione della vostra vita, dal punto di vista finanziario, con cognizione e causa. Alla prossima!